Qualche mese fa ho postato sul mio canale di YouTube un video molto controverso che ha suscitato un po' di polemiche. In quel video cercavo di spiegare la differenza, secondo me, tra grafico e graphic designer. In quel video avevo spiegato che secondo me il grafico era un po' il grafico esecutivista, mentre il graphic designer era qualcosina di più. Dopo aver suscitato molte polemiche e molti commenti, come in realtà comunque mi aspettavo, e addirittura petizioni per farmi rimuovere quel video, ho deciso di fare una autoanalisi di tutto quello che avevo detto e di quello che pensavo su quell'argomento. Prima di tutto, riprendiamo la domanda iniziale. C'è differenza tra grafico e graphic designer? La differenza come tipo di lavoro non c'è. Io continuo a pensare che nell'uso quotidiano, nel modo di parlare, di presentarsi ai clienti o ad altri professionisti, ci sia una differenza. Ma in realtà, come tipo di lavoro, come tipo di figura professionale, la differenza non c'è. È lo stesso lavoro. E grafico è una parte di traduzione della parola inglese graphic designer. Mentre invece nel video precedente avevo fatto questo errore. Avevo dato alle due parole due lavori corrispondenti diverse, a seconda del livello di competenze del tipo di graphic designer. Questo mio errore nasce in realtà dalla confusione generata dalla parola stessa grafico. La stessa pagina di Wikipedia in realtà parla proprio della confusione relativa a questo argomento. Nella lingua italiana il termine grafico è talvolta confuso e usato erroneamente in modo intercambiabile con altre definizioni. E sempre nella stessa pagina, dopo un po' dice Viene dunque applicato come sinonimo dell'espressione inglese graphic designer, con la quale si designa un professionista che si occupa principalmente di creare oggetti visivi, per essere stampati, media digitali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la risposta alla domanda è no, non c'è differenza. Ma in realtà a questo punto io voglio andare oltre. Voglio cercare di dire che è la domanda di partenza ad essere sbagliata, la differenza tra grafico e graphic designer. La domanda reale in realtà dovrebbe essere perché continuiamo a utilizzare la parola grafico. Preparatevi perché sto per dire un'altra cosa che scatenerà un sacco di altre polemiche. Grafico come parola, come definizione di mestiere, come definizione di lavoro, è una parola stupida. Non ha senso. No, sono in Giants. In realtà, infatti, grafico è semplicemente l'abbreviazione della definizione progettista grafico. E questa sì che mi piace come parola, questa sì che mi piace come definizione. E questa sì che è effettivamente la traduzione di graphic designer. Graphic designer uguale progettista grafico. È come se in inglese si dicesse I am a graphic. Non vuol dire niente. Cosa vuol dire? Sono un grafico. Non vuol dire niente. Ha senso invece dire sono un progettista grafico, sono un tecnico grafico al massimo. Ma grafico di per sé non vuol dire niente. È un termine che genera confusione, è un termine semplicistico. Ed è questo sì veramente qualcosa che, secondo me, sminuisce la professione. Ed è proprio questo concetto, questa idea collegata a questa parola di grafico come qualcosa di poco sensata come parola che porta all'utilizzo di graphic designer. Ed è questo che mi ha portato a fare l'errore di considerare queste due parole come mestieri diversi. In realtà, semplicemente, grafico è una parola sbagliata da utilizzare. È incompleto e genera confusione. Mentre invece progettista grafico e graphic designer sono due definizioni che vanno bene e possono essere utilizzate, sono complete, sono giuste. Quindi, smettiamola di definire chi lavora nel mondo della grafica come un grafico. Iniziamo invece a usare i termini progettista grafico e graphic designer. Oltretutto, questi termini sono molto più adatti a quello che si fa veramente. Prima di tutto perché sono più professionalizzanti, perché la grafica è una materia seria, come sa chiunque ci lavora. E allo stesso tempo contengono la parola progettista o comunque designer, che sono altamente descrittivi del tipo di approccio che si fa alla materia. Non si esegue qualcosa nella grafica, o almeno non si dovrebbe eseguire qualcosa nella grafica. La si progetta, la si crea. E quindi designer, e quindi progettista. Ma solo grafico non ha senso. Quindi, per concludere tutto questo video, ok, nel video precedente avevo torto. Ho detto delle cose imprecise, ma in questo nuovo video spero di aver chiarito tutti i dubbi, spero di aver chiarito tutte quelle che sono queste confusioni, queste indecisioni su questo termine. Ovviamente mi piacerebbe avere anche la tua opinione su questo argomento così spinoso, e ti invito a lasciare un commento qui sotto.